delle famiglie, da sola non risolve nulla, anche perché c'è già chi lo fa e lo fa nel silenzio. I bisogni sono svariati e molteplici ed è per questo che bisogna avere una visione più ampia della realtà. Le politiche sociali devono essere di sostegno, di aiuto, ma soprattutto di indirizzo. Serve coordinare i servizi sociali, insieme all'opera di altri soggetti che conoscono la realtà del territorio. Rispondere non in termini di singoli, ma di rete. Noi della bussola porteremo in primo piano queste problematiche e queste idee, insieme a tante altre. Ed è per questo che il 6 e 7 maggio chiediamo un forte sostegno per noi, per la coalizione, ma soprattutto per l'unico uomo, con i piedi per terra e con lo sguardo proiettato al futuro, che è in grado di dare queste risposte e che è Mimmo Lione. Grazie.